Digital Transformation Cyber Security, che ruolo ha in quest'ambito la comunicazione? Lo chiediamo a Massimiliano Canestro, Vicepresidente della SMS Engineering. Noi stasera parleremo di trasformazione digitale, quindi sarà un convegno tutto incentrato sulla tecnologia, però è molto importante diffondere i concetti fondamentali affinché la tecnologia venga utilizzata. Noi in questo momento non è che ci mancano le tecnologie o quanto serve per poter operare sul digitale, ma fare in modo che queste cose si diffondano, tant'è che l'evento parte con una serie di associazioni che parlano della trasformazione digitale all'interno dei propri associati e finisce con la presentazione di un libro che è l'innovazione e la trasformazione digitale. In questo libro in particolare c'è anche un capitolo scritto da me che è il modello dell'onda portante dove si parla di quelli che possono essere gli acceleratori affinché delle informazioni nel mondo digitale possano viaggiare con una velocità maggiore. Noi abbiamo utilizzato proprio per questo evento in particolare come un da portante la giornalista Maria Grazia Toscano che in qualche maniera ha fatto in modo che sia la presentazione e l'invito all'evento, ma sicuramente anche l'evento avrà un successo incredibile, possa diffondersi di più e maggiormente sopra il web. E continuiamo a viaggiare sul web, restiamo sempre connessi e aggiornati grazie a Massimiliano Canestro, grazie sempre alla SMS e a Del.